E soprattutto quanto, come un'ombra nera, c'era Rorke. Dopo aver distrutto una piattaforma, ingannato un'intera flotta e affondato un incrociatore, restava una sola domanda. Dov'era Rorke? Lì? Un passo avanti a noi? Ci aspettava. Ghost. Che gli era successo? C'era qualcosa in quella fabbrica. Qualcosa che i Fed volevano tenere ben nascosto, ma che presto avremo scoperto. Occhi sul bersaglio, ragazzi. Occhi sul bersaglio. Andiamo con calma, ragazzi. Il terzo siamo ancora noi, come al solito, è giù per il tubo. Doviamo subito uccidere, cerchio per uccidere, la madonna. Un saluto, vi salutiamo così, è giù per il tubo. Come al solito, ragazzi, su quello di Ghost. Andiamo avanti col Wild Fruit. 20.000esimo episodio. Subito un checkpoint da paura, ragazzi. Cos'è? Cos'è? Una luce? Una luce? Credibile agli alieni. Ci avviciniamo, ragazzi. Andiamo subito. Seguiamo Merrick. Vediamo che... Che fa? Che fa? Che cacchio fa, Merrick? Nin, 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 nin. Procedere, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Non c'è tempo da perdere. Non c'è tripoper gratti, questo qua. Vediamo, ragazzi. Doveva ucciderlo. Cerchiamo di fare un medal shot così non rompe le balle. Subito fatto, ragazzi. Neanche me lo dovete dire. Neanche me lo dovete dire, ragazzi. Io so pro. So pro player. Tuve è a sinistra. Noi andiamo a destra. No, tuve è a destra. Andiamo a sinistra, ok. Tu vai da solo, eh. Mi raccomando. Non farti uccidere. Noi siamo in 25 qua. Con calmizia, ragazzi. Andiamo avanti. Cerchiamo qualcosa che non so cosa sia. Il sacro grado. Il molise, magari, ragazzi. Libero? Destra, libera. Destra, libera. Destra, libera. Sinistra pure. Sinistra, libera. Oh, mio Dio. Rubala, rubala, rubala. Rubala, rubala. Rubala, scheda, ragazzo. E mo? Ah, giusto. Vai, vai. Qui, qui, qui. Bravo, bravo, Ash. Oh, ciao, Belly. Eh, scusate, eh. Ma per di là, sì, eh. Da bau, ragazzi. Andiamo? Accedi alla zona nera. Incredibile zona nera. Obiettivi aggiornati. Checkpoint. Da bau, ragazzi. Infiltrazione perfetta. Incredibile, ragazzi. Siamo dei dobley. Accessi multipli. Accessi multipli. Decessi multipli. Un accesso solo. Vabbè. Ma io accessi multipli non li ho visti. Kegan. Kegan è andato a puttane. Andiamo bene, ragazzi. Speriamo di non incontrare gente che ci massacri le balls. Tipo questo. Minchia che mira, ragazzi. Non l'avevo neanche preso. Con calmizia, ragazzi. Con calmizia. Andiamo, andiamo, ragazzi. Su. Vediamo qua. Oh, un altro tizio. Ciao, bello. È stato un piacere conoscerti. Vediamo se c'è qualche fire rock, ragazzi. Fire rock di qua? No, eh. Qua? No, no, no. Non ce n'è. Dai, ragazzi. Non ce ne sono mai di fire rock. Non ce ne sono più, eh. Mi sa che ne hanno nascosti bene, bene. Bene, bene. Bene, bene, cassa. Bene, bene. Checkpoint raggiunto, ragazzi. Vediamo la porta blindata. Se riusciranno a distruggerla. Qua c'è un fire rock. No. Navega. Navega. Non c'è neanche qui. Ma dove cacchio li avete messi, ragazzi? Guardate qua. Tutti i bersagli del mondo. Tutti, tutti, tutti. Oh, no, 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 no. Avete capito male, eh. Avete capito, Mario. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Su, 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 su. Morite tutti. Libero. Libero un Kaiser. No, sì, sì. Effettivamente è libero. Libero, 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 libero. Stanno assemblando dei razzi. Stanno assemblando dei razzi. Che ho da dire? Oh, mio Dio. Questo? Vabbè, ragazzi. Però se non mi aprono le porte. Che ganga. Vai, zio. Vai, zio Mary. Mesh. Cos'è sta roba? Quello? Scarecrow. Scarcarozzolo. Questo farò. No, ragazzi. Non ci siamo, però. Uh, ecchitelo, ragazzi. Preso in saccoccia. Presissimo. 8 su 18, ragazzi. Una media incredibile. Che devo fare? Devo inquadrare l'unità principale, ragazzi. Qual è? Questa? In alto. In alto a destra. In alto a destra. Alla tua sinistra. Eh. Oh, ma ti svegli. Inquadra una delle barre. Eh. E cosa sta facendo? A sinistra. A sinistra non c'è una vega. Verso. Oh, ma ti svegli. Verso destra. Ah. Eh, ma che cacchio. Sì, ma dai. Ma la gente qua, boh, fa le cose con i piedi. Quindi c'è a sinistra, a destra, a destra, su, in alto. Basato sul nostro progetto. Quanti ne hanno costruiti? 2, 3, 4, 5, 16, 18. Dark light. Scarecrow. Motherfader. I nomi più boh, a caso, del mondo. Ricevuto scarcarozzolo. 80 chilometri. Vai, vai, ragazzi. Andiamo, andiamo. Dove doveva entrare? Dove, dove? Di là. Bird out. Ma come? Questi stanno blaterando, ragazzi. A random, eh. Non si svegliano più, sì, qua. Sì, sì. Copertura totale. Vai, Mary. Capri sta porta e non rompere le balle. Intanto è scomparso un'ombra sulla porta. Vai, squadroni di aerea. Speriamo di non morire, ragazzi. Di lasciarci le penne, se no. Siamo un po' dei Kaiser. C'è qua il tragiuto. Questi? Oh, addirittura. Gli schermi che non hanno reazione. Che devo fa? Che devo fa? Che devo fa? Ah, copiare i dati di produzione. Questo è il numero 24. Numero 24. Preso. Sul mio smartphone. Dati criptati, ragazzi. Corriamo, vediamo se l'abbiamo fatto o no. Quale movimento? Sono io che so correre. Oh, la madonna. Che succede qua, ragazzi? Un kaboom. Tanto boom. Dai, ragazzi. Su, su, su. Non mi rompete le balle. Che dovete morire tutti. Questi sono, però, ragazzi, eh. Sono 25.000, mamma mia. Mi stanno facendo il pull a strisce. Ehi, negativo. Negativo un Kaiser, eh. Qua, la so. Ci sono lasciato le penne. Di sicuro morirò, ragazzi. 27.000 volte. Incredibile. Sì. Vai, vai. Questo qua è morto. No. Minchia, mi sparano ovunque. Caspita. Densa, sinistra, giù, su. Dai, dai, ragazzi. Speriamo di non lasciarci le penne. Come dei pirloni. Andiamo. No, no. Ma, porca troia. Stavo sparando. Lanci il fumogeno. Aspetta. Caspiterina. Ah, abbiamo pure il visore. Eh. La madonna, ragazzi. Così sì che si vede da baura. Vediamo, vediamo. Minchia, l'ho sballato da tutte le parti. Qui non si va. Oh, cos'è questo? Dai, c'hai. Madonna mia, che tristezza. Dai, togli il tizio scudo. Mamma mia, ragazzi. Qua, questo qua mi uccide. Caspita. Dai, su, su, su. Non rompere le balle. Eh. Ti pareva. Oh, quando potevo sparargli? Sto tizio. Mamma mia, ragazzi. Che spalle. Che peso. Oh, finalmente se n'è andato. Altri tizi con lo scudo? Vabbè, questo va un po' un pirla. Vabbè. Oh, no, 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 no. Quanti sono? Quanti sono? Mamma mia, ragazzi. No, c'è ancora il fumo, però, eh. Pensavo non ci fosse più. Flashbangs. Gangbangs. Flashbangs. Eh, la sto lanciando. Oh, tra. Ah, la flashbang è contro di noi. Se me lo dici prima, magari, però. Mamma mia, guardate quanti cacchio ce ne sono qui. Ma, no, 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 no. La granata. La granata. Oh, ragazzi, noi spariamo a caso. Poi... Pensatela come volete. Ma, mamma mia. Che palle. Tutti questi cosi qui assetati del mio sangue. La madonna. Se mi prendono qua è finita, ragazzi. Sono più che morto. E, 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 mamma mia Oh, con calma, eh Con calma No, 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 no Dai, l'ho rilanciata Da cos'è? Ma sono morto a random, ragazzi Ma poi? Dio mio Dai, ragazzi, speriamo di rinascere Non da capo, non da capo, non da capo Vabbè, ragazzi, un po' a random Vabbè Che palle, oh Però mi ero lanciato, non mi avevano preso, eh Andiamo, andiamo Cerchiamo di non farci sorprendere come prima Come degli idioti Vai, vai, hai lanciato la granella, ma Oh, oh, ma no, questo mi... Oh, la madonna Però se me lo dite prima che c'è la granata Non è che sia una cosa così cattiva, eh Non lo scudo Non voglio lo scudo Oh, no, il mio di prima, ragazzi Mamma mia, che impedito Vai, vai Cerchiamo di... Questo è un uomo? Sì Se questo è un uomo Certo che è un uomo Mamma mia Ovviamente la cosa doveva passare davanti in questo preciso istante Preso Preso anche te, Infamous, eh Volevi sfuggire, eh Volevi sfuggire Infamone Tuk Preso, preso Avevo preso anche l'altro, mi sa, eh No, no Eccolo, eccolo, eccolo Olè Tutti a terra? No, ancora? Tutti a terra? Questo? Sì, vabbè, ma tu sei un pirlone, eh Oh, non è ancora morto? Non è ancora morto? No, 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 no La granata no La granata non mi gusta Vai, vai Tu Eh, vabbè L'ha costito gli altri, ragazzi Però Non ho più ammo, eh Ho quattro munizioni Mannaggia la miseria, ragazzi Vediamo il Giambison Vediamo Ma Ma va a cagare te La Flashbang Eh Boh, lanciamo una granella, ragazzi Non so bene cosa fare Ci sono mille, milla Tuk Fantastico Finite le munizioni Vediamo se sto coso Sto Giambison qua Dice, sì Rabbè, ragazzi Incredibile Non c'è più nessuno Dai Dammi il checkpoint Dammi il checkpoint Da bravo, zio Infatti fuori tutti, ragazzi Tutti Nessuno Salva Si salva la mia furia, ragazzi Incredibile Da paura Vai, vai, vai Non c'è più nessuno Checkpoint Grande, ragazzi Vai, vai, vai Merrick Merrick Stiamo 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 La frutta Siamo veramente La frutta, ragazzi Incredibile Pronti Il mio segnale Scorciate l'inferno, ragazzi Vai, andiamo Ragazzi Andiamo, andiamo Andiamo Caso Mamma mia La gente già ci traballa Già ci prende di mira Annessi Connessi Preso Anche tu Scamperone Incredibile Dai e dai Ragazzi Speriamo di non Morire come Dei Pirroni Incredibili Guardatelo Che infemus Kingan è morto No, è risorto Vabbè, tanto Questi qua Risorgono Muoiono Risorgono E muoiono E risorgono Di nuovo Quindi No problem No problem Don't worry Be happy Ragazzi Però qua La vedo dura Speriamo che Non ci faccia nessuno Intanto Oh, Kigan Non spara nessuno Se ne prega altamente Franchi Fanchi Andiamo Uno lì Uno là E Kitten è uno di qua Guarda quello lì Che sei andato a scamperare Guardalo Mamma mia ragazzi Forse nemiche ovunque Quello ancora vivo Sì Oh È morto Granata Kigan Scappa a caso La gravata Se è caduta di sotto Ma va bene Gente poco intelligente Oh, oh Eccitelo Muerto Muerto Anche tu Tutti morti ragazzi Stiamo facendo paville Checkpoint Checkpoint Vai, vai, vai Vai Ash Vai Ash Mamma mia C'è una granata Che questi qua Mi sembrano poco amichevoli Mamma mia Mamma mia Stavo rischiando Il mio bel siderino Dai, dai ragazzi Dai che ce l'abbiamo quasi fatta Spero Intanto Oh, appena metto Un braccio fuori Me lo prendono Mi fanno A pezzi Dai, dai Tu sei morto Oh, grandi C'è qualcuno Che ci è schiantato A random Oh, vai, vai, vai Prendimi, prendimi Bravissimo Grande zio Checkpoint Un altro Mamma mia Qui esplode tutto La fine del mondo Vai, vai Morto Morto Incredibile Vai ragazzi Speriamo di non morire qui Come dei spiralloni Tanto esplode Tutto Tutte esplosioni Esplosine a random Tutto Di tutto sta succedendo In questa lezione Vai, vai Oh, oh Ma cos'è Dai cilindri Che cadono Cose che si distruggono A random Io che sto sparando A caso ragazzi Per niente da paura Ottima guida Grandi Siamo salvi Abbiamo distrutto Grandissimi ragazzi Tutto Un merito mio Ovvio Ovvio Obiettivo completato Ragazzi Beh, mi sa che anche la missione Sarà finita E allora Spero che il video Vi sia piaciuto ragazzi Mi raccomando Iscrivete al nostro canale Il canale Giù per youtube Mi piace Commentate Che non siete Fate tutto Come al solito Noi ci vediamo A prossimo Video boa ragazzi Wow